. Avviso agli euro navigati, se italiani su 10 pensano che stare nell'Unione Europea non porti benefici, in controtendenza nel resto del continente, dove il 64 pensa che lui sia stata utile. . Due terzi dei cittadini europei, il 64, pensano che appartenere all'Unione Europea sia stato benefico per i propri paesi. Ma questa percentuale scende al 39% in Italia, che registra il dato più basso nell'UE nonostante il miglioramento di un punto percentuale rispetto al 2016. . E' uno degli aspetti che emergono dal sondaggio annuale commissionato dal Parlamento europeo e che sarà pubblicato il 18 ottobre. . Il Parlamento 2017 è stato realizzato tra il 23 settembre e il 2 ottobre con interviste faccia a faccia a 27.881 cittadini europei maggiori di 15 anni nei 28 stati dell'UE. . Complessivamente, negli stati UE il dato delle persone che ritengono fonte di benefici appartenere all'Unione è più alto di 4 punti percentuali, l'anno scorso erano i 60, mentre la percentuale di cittadini che pensano che l'appartenenza all'UE non sia stato un vantaggio per i propri paesi è scesa di 6 punti, dal 31 del 2016 al 25 del 2017. . 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